Sorpresa in Honduras, all'isola dei famosi arriva Valeria Marini. L'isola dei famosi langue? Niente paura, arriva Valeria Marini. È il settimanale, chi a lanciare la clamorosa indiscrezione. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, sempre molto ben informato sui reality mediaset, la giulonica Shojirl presto volerà in Honduras dove incontrerà i naufraghi. Al momento bocche cucite sul ruolo, nuovo inatteso concorrente, ospite o inviata con una missione speciale? La verità sarà rivelata lunedì durante la puntata condotta da Alessia Marcuzzi o al più tardi sul numero di Kinedicola da mercoledì prossimo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!